Ciao a tutti, ed eccoci negli studio BTV News. Siamo in compagnia di Alessia Cuffia. Ciao. Innanzitutto, Alessia, grazie di essere qui, bentornata, e come stai? Grazie mille, molto bene, grazie. Allora, è partito ieri un progetto molto interessante. L'iniziativa è stata di Alessia, appunto, ed è, si chiama Scatole di Natale Canavese, edizione canavese. Ok. Com'è nata questa idea, Alessia? Allora, io ci tengo a dire che non è tutta farina del mio sacco, perché, onor del vero, io questa iniziativa l'ho conosciuta l'anno scorso a Milano, perché avevo visto che era stato organizzato questo evento da una serie di persone che avevano deciso di mettere in piede questa iniziativa. Io, una pausa pranzo della scorsa settimana, stavo mangiando con le mie colleghe, e a un certo punto, io che non so mai stare ferma e senza pensare, ho detto perché non iniziamo a proporre questa iniziativa qua? Quindi è nata, diciamo, nel giro di dieci minuti e si è scatenato un bellissimo evento, perché io l'avevo inizialmente pensata su Rivarolo e i comuni adiacenti Rivarolo, poi in realtà, per fortuna, si è estesa anche al di fuori dei comuni limitrofi. E siamo riusciti a sentire e contattare persone che hanno deciso di aderire, persino oltre Ivrea, quindi arriviamo fino a Romano, ci sono dei punti su Frassinetto, ci sono delle scuole che hanno organizzato a Caravino, ci sono un sacco di comuni al di fuori, appunto, di Rivarolo Canavese. Il progetto prevede la donazione di scatole. Io diciamo che ho dato un'indicazione generica, nel senso detto potete scegliere se fare una scatola per un bimbo, donare una scatola a un bimbo o una scatola ad un adulto. Ci sono una serie di oggetti da inserire, io ho proposto una cosa calda, un prodotto di bellezza, un passatempo, un giocattolo nel caso fossero bambini, un biglietto, che secondo me è la parte più importante, perché comunque alla base del tutto di questo progetto c'è proprio il discorso del sentirsi di nuovo comunità e di avere un briciolo di solidarietà, visto che stiamo attraversando un periodo in cui in giro senti solamente guerre, litigi e discussioni tra le persone. Il tutto viene appunto confezionato all'interno di una, ho detto, scatola di cartone, impacchettato, infiocchettato e la scatola viene portata nei punti raccolta. Punti raccolta che in questo momento sono principalmente negozi, piuttosto che bar o ristoranti che hanno aderito, che fanno appunto da punto raccolta e nel momento in cui hanno un tot di scatole mi chiamano, io vado, ritiro queste scatole e le porto alle varie associazioni e strutture che hanno deciso di aderire al progetto e di a loro volta consegnare queste scatole alle persone meno fortunate, più bisognose nei giorni prima di Natale. Quindi hai avuto molti riscontri fino adesso? Sì, sì, per fortuna sì e questo è bello perché diciamo che appunto il motivo per cui è nato il tutto è stata questa voglia di sentirsi di nuovo tutti parte di un progetto che avesse come scopo il fare del bene, avesse come scopo ultimo il riuscire a donare un sorriso o comunque fare qualcosa che ti faccia di nuovo sentire un gruppo unico e non tante persone divise tra, ti faccio l'esempio classico di questi giorni, vaccinati, non vaccinati, tutti quelli, tutte le cose che comunque stiamo sentendo in questi giorni. Quindi sì, sta avendo un bel successo. Perché se no te non riusciamo a essere comunità? Ma non riusciamo perché comunque noi stiamo andando secondo me verso purtroppo una società molto incentrata sull'ego, sul me, sull'io più che sul noi e questo dipende comunque da tutta una serie di situazioni che si stanno creando, di anche benefit che comunque abbiamo avuto nella nostra vita, nella nostra generazione per prima, perché comunque noi alla fine siamo, cioè i nostri genitori sono diciamo figli del boom economico che c'è stato, quindi diciamo che iniziavano magari a godere di determinate cose, ma la mia generazione si è già trovata quasi tutta la pappa pronta e quindi stiamo comunque assistendo a questo cambio in cui c'è sempre il me stesso davanti a tutto il resto, davanti alla collettività, cioè prima vengo io e poi viene tutto il resto. Io sono una persona che comunque pensa che alla fine della fiera il noi sia la cosa più più importante, perché sostanzialmente tanti piccoli tassellini insieme non fanno niente, mentre invece se si vuole costruire qualcosa bisogna unire comunque le capacità, la personalità e le possibilità di tutti quanti noi, quindi diciamo che questo è stato alla base del progetto. È un discorso molto da leader, però ci torniamo dopo su questo. Volevo chiederti un attimo una questione più tecnica, così giusto due minuti, così le persone che ci ascoltano sanno come donare appunto, fare questi regali, visto che sei andato fortissimo fino adesso, fai un primo due minuti giusto per spiegare ai cittadini come fare e che punti andare e in che associazioni andranno a finire, perché ho visto che oggi hai pubblicato l'elenco di tutte le associazioni. Esatto, allora io vado proprio parlando per passi, io sono una cittadina, classica cittadina, abito a Rivarolo Canavese perché ovviamente sono di Rivarolo, decido di aderire all'iniziativa. Punto numero uno, scelgo se fare una scatola per un bimbo piuttosto che una scatola per un adulto, ovviamente bimbo-bimba, adulto-adulta, anziano-anziana, così non facciamo distinzioni che in questi non mettiamo asterischi e cose del genere che vanno così di modo ultimamente. Posso anche decidere di fare sia una per un bambino che una per un adulto e che una per un anziano, quindi diciamo lì sta discrezione del singolo cittadino. Alessia decide di fare la scatola per un bimbo maschio. Una cosa calda, prendo una scatola di cartone, che può essere la vecchia scatola di scarpe che tutti quanti a casa abbiamo, metto dentro una cosa calda, quindi bimbo mi viene in mente il cappellino, prendo e inserisco un cappellino. Ovviamente deve essere tutto pulito, tutto igienizzato, possibilmente nuovo e soprattutto io quello che ci tengo a dire è che questo non deve essere fatto per svuotare le cantine, per svuotare gli armadi, ma deve essere fatto per riempire le persone che ricevono il tutto. Quindi non è un'opera di svuotamento, ma è un'opera di riempimento. Io questa cosa ci tengo a dirla. Dopodiché un prodotto di bellezza, prodotto di bellezza per i bimbi a me viene in mente ad esempio le salviettine, quindi prendo e metto le salviette, ma uno potrebbe anche utilizzare uno shampoo, un bagno schiuma, la crema per il culetto, un elastico ad esempio se si tratta di una bambina. Dopodiché un giocattolo o un libro. Io che amo i libri e che amo leggere i libri a mio figlio, ho inserito nella mia scatola un libro, quindi inserisco quello. Poi abbiamo una cosa golosa, pensata per i bambini, quindi può essere ad esempio una scatola di cioccolata piuttosto che un pacchetto di biscotti. Mentre invece su questo ci tengo a dirlo se uno fa la scatola per l'adulto, siccome in questo momento, soprattutto parlando anche con le Caritas, c'è tanta fame in giro, la scatola per l'adulto è più pensata piuttosto che sul goloso, proprio su un genere alimentare come può essere un pacchetto di pasta, piuttosto che un pacchetto di cracker, qualcosa di effettivamente sostanzioso che possa sfamare la gente. E poi, come dicevo prima, un biglietto di auguri che venga letto e che venga comunque preso da chi riceverà questa scatola. Una volta che ho inserito il tutto, prendo la mia bella carta da regalo, che può tranquillamente anche essere carta da giornale colorata poi dai bambini, cioè lì sta ovviamente all'inventiva e alla fantasia delle persone, ci metto un bel fiocco perché io amo i fiocchi e decido di portare la mia scatola a un punto di raccolta su Rivarolo Canavese. Quindi vado nel, in questo caso io sto utilizzando Facebook e Instagram perché ovviamente sto usando molti social, guardo l'elenco dei punti raccolta che ci sono a Rivarolo, prendo uno dei negozi che ci sono a Rivarolo e vado a consegnargli questa scatola. L'esercente dell'attività riceve la scatola, la mette da parte, quando otterrà un tot di scatole chiama Alessia, Alessia prende, va in negozio e ritira. Alessia quando avrà un tot di scatole, io ho dato come tempistica al massimo il 19 di dicembre, che sarà una domenica, prenderà tutte queste scatole e andrà nelle varie associazioni. Tra le varie associazioni noi abbiamo l'Anfas di Rivarolo Canavese, una serie di Caritas tra cui Favria, Rivarolo, Prascorsano, Rivarossa, Ivrea, perché come dicevo prima ci sono punti raccolte anche su Ivrea. Abbiamo un'associazione che si chiama Con altri occhi di Valperga, abbiamo una casa che si occupa di mamme e figli su Favria che si chiama Casa Elsa, quindi comunque ci sono un tot di associazioni che la settimana prima di Natale o il giorno di Natale, questo ovviamente sarà poi da decidere da loro, consegneranno queste scatole ai bimbi, agli adulti o agli anziani. E quindi questo è quanto. Direi che sia stata precisissima, perfetto. Infatti è una bellissima iniziativa, sono contento appunto di riuscire a fare un po' di, tra virgolette, pubblicità anche se non hai bisogno. No, no, no. Però io ci tengo anche a dire una cosa, questa cosa è fatta anche, e ci tengo a dirlo, perché io parlando con queste associazioni ho avuto modo di vedere il bisogno che c'è di persone che vadano a fare volontariato. In tanti mi hanno detto è bella questa iniziativa ed è molto bella che venga fatta sotto a Natale, perché comunque Natale è molto sentita da chiunque. Però ci teniamo a dirti che comunque c'è bisogno che nelle associazioni e che delle associazioni ci si ricordi anche durante tutto il resto dell'anno. Quindi io ho anche pensato di far conoscere ogni giorno, appunto la mia pagina Facebook, le varie associazioni, le varie strutture, di modo che chi possa essere interessato a prestare il proprio tempo, prestare anche effettivamente la propria volontà ad aiutare queste persone che seguono questi progetti, possono appunto aumentare effettivamente l'efficienza e l'efficacia di queste associazioni che diciamo ricoprono tantissimi comuni e sono presenti in tantissimi comuni del nostro canavese, poco conosciute perché ce n'è qualcuna magari meno conosciuta, ma che comunque aiutano tante persone. Magari visto il tuo riscontro con questa iniziativa sicuramente anche in futuro potrà essere che o te o altri cittadini possano intraprendere nuove iniziative anche questa che è stata veramente qualcosa di nuovo soprattutto, anche se è stata fatta in città grandi come detto tutto qua a Milano, però poi in canavese non si era mai vista una cosa del genere, quindi è stata quella novità che ci sta. Allora volevo chiederti, sei seguitissima sui social, sei su Instagram, su Facebook, hai fatto iniziativa, hai avuto molti riscontri, sei una leader. Alessia Sindaco? Alessia Sindaco? Se ne parla diciamo, no? Se ne parla, diciamo che si vocifera, io lascio parlare tutti quanti, il mio amore per la città si sa, il mio amore per fare le cose per il mio territorio anche, diciamo che i primi nomi che escono sono sempre quelli che si bruciano, quindi io ufficialmente il mio nome non lo faccio, però chi lo sa? A me comunque questo poter fare qualcosa ed essere utile piace, tu lo sai bene. Io ripeto, penso sempre che basti poco, veramente poco, per cercare di migliorare il mondo in cui si vive, l'ambiente in cui si vive. Io quello che posso fare lo faccio, ho poco tempo, nel senso che comunque le cose che faccio sono tante, io sono anche una che odia stare con le mani in mano e non mi piace lamentarmi senza poter fare o provare a fare le cose. Quindi ti dico, a me chissà, un giorno magari diventare sindaco piacerebbe anche, però ci sono anche altre cose che mi piacerebbe fare, che magari farò, che magari non farò. Ad oggi ti dico, lasciamoli parlare, io non nego. Cittadini te lo chiedono comunque. Ma sì, diciamo che ci sono persone che la battutina me la fanno, ma più che altro no. Allora, io dico sempre, io non sono mai stata comunque dentro il comune, dentro la macchina amministrativa, quindi sono la prima a dire che ad oggi non mi sento di avere queste grandi competenze amministrative, perché comunque è come quando vai all'università, cioè se tu vai all'università a studi le cose, poi però nel momento in cui vai a lavorare, il mondo del lavoro è un'altra cosa, è più o meno la macchina amministrativa, è la stessa cosa. Cioè io posso sapere tante cose sulla carta, però poi ufficialmente come si operi lì dentro questo non so farlo. Però è anche vero che comunque la voglia di fare, secondo me, è una cosa che è importante e quindi magari con tanta voglia di fare le cose si riescono anche ad imparare, ad apprendere e ripeto, chi lo sa. Diciamo che il tuo nome piano piano sta sempre scalando sempre più gerarchie, sentendo un po' anche quello che dicono i cittadini, quindi molti ti vedono come una leader, come un leader e potrebbe, potresti anche diciamo tra virgolette provare a candidarti a vincere, chi lo sa. Potrebbe anche essere. Diciamo che dall'ultima intervista sono cambiate tante cose. Sì. Innanzitutto la tua carriera politica ha avuto un cambiamento. Sì, esatto. Da un partito a un altro partito, da Fratelli d'Italia a Lega Nord. Ecco, in questo periodo poi tra l'altro abbiamo visto nei sondaggi nazionali, ovviamente, vedere Fratelli d'Italia schizzare alle stelle e la Lega abbassare e perdere qualche punto. Ecco, non sei un po' spaventata per questo? Sei fiera della tua scelta? Sei convinta? Allora, guarda, io ti posso dire che uno, le cose facili non mi piacciono, quindi ovviamente sarebbe stato facile rimanere nel carro, diciamo, in ascesa in questo momento. No, allora, diciamo che la mia scelta è stata una scelta prevalentemente collegata al fatto che a me piace fare. Io ho avuto la possibilità di vedere come comunque la Lega sia un partito molto attivo sul nostro territorio. È vero che Fratelli d'Italia è in crescita e è vero che comunque ci sono dei personaggi all'interno del partito molto forti, molto carismatici. Quello che dico è che è un partito molto presente però al centro dell'Italia. Sul mio territorio, quindi qua direttamente anche in Canavese, io ho visto la Lega molto attiva. Nella stessa regione Piemonte comunque la Lega è un partito che sta facendo molto bene perché riusciamo a portare molte iniziative appunto nei vari territori e soprattutto è un partito che comunque è molto attento al nord perché ovviamente sappiamo tutti quanti le origini del partito. Qui diciamo che alla base c'è stata questa possibilità dell'aiutarmi a fare e a imparare. cosa che effettivamente sto facendo perché ho la fortuna di essere comunque nella sezione di Rivarolo dove c'è Claudio Leone che tanti conoscono, che è un consigliere regionale che mi sta insegnando molto. Diciamo che io sono anche dell'idea che entrare nella stanza dei bottoni sia molto importante e magari a volte ti può comportare dei rischi, cioè nel senso io faccio l'esempio a livello nazionale. Fratelli d'Italia in questo momento è al di fuori del governo, la Lega è entrata al governo, ha fatto una scelta magari rischiosa perché comunque si è messa contro tutta una serie di persone perché giustamente entrare comunque con il governo Draghi ti sei buttato dentro una cosa che magari fino a qualche giorno prima hai criticato, però effettivamente cosa facevi? Rimanevi fuori rischiando di lasciare tutto quanto in baglia degli altri? No, hanno preferito fare una scelta dicendo io entro all'interno, provo comunque a gestire o a prendere delle decisioni e a imporre anche le mie idee e provo a fare. E questa scelta secondo me è stata coraggiosa ma io ho una scelta che ho condiviso, quindi preferisco rimanere ed essere lì dentro piuttosto che stare fuori, dire solo no, 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 lamentarmi, lamentarmi, lamentarmi e poi non portare a casa il risultato. Quindi diciamo che la scelta che è stata fatta a livello nazionale è un po' quella che io ho fatto a livello territoriale. Poi ripeto, io comunque penso che anche le persone che lavorano dentro Fratelli d'Italia siano super mega competenti, anzi io mi sono anche avvicinata comunque a tutto questo mondo grazie a loro, per cui non è assolutamente un parlare male o uno sparlare di nessuno, anzi poi comunque siamo forse di centro-destra, quindi chi lo sa, tutto può essere, anche in futuro su una riva rado stessa. Un'altra domanda che volevo farti, appunto hai parlato di questo governo che vede insieme la Lega con il Partito Democratico, 5 Stelle e Forza Italia, altri partiti ovviamente. Questo comporta anche a livello locale un avvicinamento magari della Lega, più magari verso un'amministrazione, verso un'area di centro, oppure comunque a livello di opposizione il centro-destra rimane sempre compatto? Guarda, lì diciamo che, tu mi fai sempre le domande per mettermi in difficoltà, è una, allora a livello territoriale, diciamo che se parliamo proprio di una Rivarolo, perché tanto vuol dire Rivarolo non vogliamo parlare, sono tutte scelte che si vedranno. Sicuramente quello che ti posso dire è che comunque c'è la volontà, sia da una parte che dall'altra, di fare, di fare, punto. Quindi qualunque alleanza venga stretta nei prossimi mesi, sicuramente sarà una scelta improntata sul fare qualcosa per Rivarolo, perché comunque ultimamente vuoi il Covid, vuoi tutta una serie di problematiche che ci sono state, si è un pochettino appiattito il tutto, sono mancate tutta una serie di iniziative e quindi diciamo che al centro, secondo me, comunque di qualunque tipologia di scelta venga fatta, deve esserci pensare a far riprendere il nostro territorio, Rivarolo in primis, io sai che è un amore particolare per la mia città e quindi sicuramente questo sarà il denominatore comune del tutto. Abbiamo visto nell'ultimo periodo questo evento storico, cioè la partenza della tappa del Giro d'Italia di Rivarolo Canavese, che tra l'altro è stata portata dalla Lega, perché hai visto il comunicato di Claudio, abbiamo visto anche comunque che tu hai fatto da portavoce, tra virgolette, a questo evento. E quello che volevo chiederti è, è più un assist quello che gli avete fatto a questa amministrazione o più una patata bollente, perché stanno già fioccando critiche, stanno già fioccando problematiche? Guarda, io ti posso dire che da che mondo è mondo, qualunque cosa tu decida di fare, comunque le critiche dietro se le porta, nel senso non viene criticato solo chi non fa, così è. E la classica cosa del calcio di rigore, lo sbagli solo se non lo tiri. Quindi, secondo me, in questo momento era ed è corretto riportare comunque attenzione e anche proprio eventi sulla città, sulla città di Rivarolo. Noi sappiamo che la regione comunque contribuirà al 50% con questo evento, su questo evento. Tra l'altro c'è stato fatto un grande lavoro, ripeto, come hai detto tu, da Claudio, anche dall'assessore Ricca, che è l'assessore allo sport della regione Piemonte, e sarà il primo grande evento che tornerà a Rivarolo Canavese. È ovvio che a fronte di quello ci saranno delle spese, è ovvio anche che comunque gli ultimi due anni e mezzo sappiamo c'è stato l'aumento, mi viene da dire, quello della Tari, tutta una serie di cose, quindi comunque la mente e le critiche ce ne saranno. Però bisogna anche vedere comunque tutta la parte che è legata e che c'è dietro alla tappa stessa, nel senso sarà comunque un evento che porterà attenzione al nostro comune e non solo, perché poi ricordiamo che passerà ad esempio anche da Ozzegna, darà la possibilità alle attività commerciali di lavorare in quei giorni, perché comunque ricordiamo che partirà la domenica. Infatti secondo me c'è anche da dire che è una delle tappe più importanti del giro, perché è la penultima domenica, è una domenica, quindi ci puoi agganciare comunque il sabato, organizzando tutta una serie di eventi collaterali, darai la possibilità a, a me viene in mente ovviamente l'hotel, agli hotel di lavorare, ai ristoranti lavorare. Secondo me sarà comunque una possibilità di far crescere il territorio e in questo momento bisogna comunque vedere anche i lati positivi delle cose, non sempre solo cercare di attaccare. Poi ripeto, la critica ci sta, perché tanto non potete, io stessa, cioè c'è gente che, dico sempre, c'è gente che magari, come tu dicevi prima, può parlare bene di me, c'è gente che invece non ti accetta. Nel momento in cui decidi di fare, questo lo metti in conto. Io sinceramente sono contenta che appunto il giro parta da qua, darà molto rilievo, sarà un evento comunque molto importante, molto seguito, e poi stiamo parlando del Giro d'Italia, che comunque è un evento storico, per cui io sono contenta. Penso tutti i cittadini siano, tra le qualità, contenti per l'importanza dell'evento. Ovviamente poi dietro c'è tutto un discorso, tra le qualità, politico, come per esempio il fatto che si metta mano adesso sulle strade, è una domanda che ci dobbiamo porre, perché serviva proprio il Giro d'Italia per mettere a posto le strade, quando sono anni che le strade fanno, tra le qualità, ridere. E quindi questo fa arrabbiare molti cittadini, in quanto pagando tasse e tutto è ovvio che... Adesso cambiamo un attimo il discorso. Qualche giorno fa è stata la giornata contro la violenza sulle donne. Abbiamo visto una nostra collega, che è stata aggredita, molestata durante un'intervista, e ci ha lasciato tutti senza parole abbastanza schifati. Te che fai parte di un mondo comunque molto, tra le qualità, maschilista, ma già da giovane penso che sia andata sempre controcorrente, visto che è stato giocato a calcio e tutto. Ecco, cosa vuoi dire a tutte le ragazze che vogliono intraprendere una carriera politica, una carriera in ambiti in cui il maschilismo a volte è veramente feroce? Guarda, io dico sempre che noi donne possiamo fare qualunque cosa che facciate voi uomini, qualunque, e la possiamo fare anche molto meglio di come la fate voi, anche per noi sappiamo fare più cose contemporaneamente, quindi se avete voi invece, vabbè, a parte questo. No, allora, sicuramente non è facile, non è facile entrare nel mondo della politica, così come nel mondo del lavoro, perché comunque purtroppo noi viviamo in una società dove la figura di riferimento è sempre stato l'uomo, cioè al centro c'è sempre stato l'uomo, quindi siamo soggette quotidianamente a commenti del tipo se questo ha fatto carriera sicuramente è perché ha avuto qualche atteggiamento di qualche tipo, anche nel momento stesso in cui diventi mamma, tu comunque è pieno di persone che magari mettono a repentaglio la loro carriera per il fatto di voler diventare mamma, nel senso è una lotta continua la nostra, bisogna avere sicuramente tanta forza, bisogna imparare a fregarsene di tutto e di tutti, perché quella secondo me è la cosa fondamentale, cioè la gente che ti criticherà, come dire, anche proprio le opinioni, e anche il voler fare, il voler a volte magari mettersi in mostra in maniera forte, perché proprio devi farlo in maniera forte, perché altrimenti ti schiacciano, secondo me non deve spaventare, andiamo verso comunque una società dove secondo me la parità uomo-donna, come da poco c'è stato il discorso della parità salariale, allo stesso modo deve esserci in qualunque tipologia di settore, di ambiente uno vada a passare la propria vita, io sono una che io da piccola, tu adesso non diresti mai, ma ero molto timida, era una persona che non parlava, faticavo comunque a venire fuori, poi col tempo ho capito che comunque io ho delle potenzialità, ho delle capacità, e che è corretto che comunque queste cose vengano fuori, quindi a me non importa se uno ha un'opinione di me maschilista, o comunque mi critica, o me ne dice di tutti i colori, io voglio fare quello che reputo corretto per me, quello che mi fa andare felice a dormire la sera, quindi dico sempre girl power, andiamo avanti così e possiamo conquistare il mondo, intanto che adesso si parla pure di una possibile presidente della Repubblica Donna, quindi voglio dire, cioè, in Europa guidata da donne, speriamo che in Italia è guidata da donne, appunto, ma anche la Rivarolo guidata da donne, chi lo sa, magari sarà poi una sfida tutta al femminile, può essere, i numeri ci sono per adesso, Alessia, grazie mille, abbiamo divagato come sempre, ma ci sta, e voglio solo ricordare a chi ci ascolta, che questa intervista uscirà anche sul nostro nuovo settimanale di approfondimento, che si chiama La Provincia, grazie mille Alessia, grazie a voi, Grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille, grazie mille,